Stasera guardiamo il progetto che voglio presentare al contest Open Electronics del Wireless Power, quindi questo concorso che è la data di scadenza per consegnare il progetto del 28 febbraio, in pratica richiede di utilizzare i moduli DT, trasmettitore e ricevitore, per creare un'idea basata sul trasferimento di potenza wireless. Il concorso ha messo in paglio tre premi che sono trascilloscopi, se vi piace il mio progetto potete votarmi, adesso vi lascio l'indirizzo qui di seguito. In un precedente video avevamo fatto le misure sui moduli P9038 e P9025 della EDT per vedere quali erano le caratteristiche di trasferimento di potenza ed eravamo riusciti a trovare che i moduli, accoppiati con qualche millimetro, la distanza migliore, diciamo quella a maggior rendimento era attorno ai 4 mm, riuscirono a trasferire tranquillamente sopra i 2 W. Il progetto che voglio presentare si chiama Wireless Aquarium ed in pratica è un acquario, quindi per pesci, dove si può mettere una lampada formata da diversi LED, che cambiano colore col tempo, alimentata dall'esterno, quindi senza la necessità di mettere delle batterie o di fare dei cablaggi, utilizzando appunto questi moduli wireless. Quindi in pratica il progetto prevede di inserire una resistenza per limitare la corrente e per regolare la corrente ai LED. È una batteria di 12 LED di tipo RGB. Il LED RGB ha la caratteristica che una volta alimentato cambia autonomamente colore, perché dentro c'è un piccolo cipettino che gli permette di fare questi giochi di luce in autonomia. Facciamo un piccolo test, quindi un LED RGB. Colleghiamo la massa al catodo, l'anodo lo colleghiamo a una resistenza da 100 Ohm, e poi applichiamo una tensione di 5 Volt. Applicando 5 Volt, vediamo che l'assorbimento è contenuto entro i 10 mA. Il LED RGB, sottoposto a questa alimentazione di 5 Volt, ha il suo circuito di controllo che gli permette di cambiare luce continuamente con questo ciclo. Quindi lo stato iniziale è rosso, poi dal rosso si passa sul verde ed infine il blu. Mescolando le diverse tonalità dell'R, G e B, si ottengono i diversi colori. Il ricevitore Wi-Fi e i LED li metterò dentro questo contenitore, che è stagno, con il gancetto si riesce a chiudere, e ha una bella guarnizione. Quest'oggetto si può trovare a meno di 10 Euro, io l'ho trovato da Decathlon, ed è un oggetto che viene utilizzato di solito per tenere il cellulare, e quindi portarselo in acqua. Il costruttore dice che ha un grado IP7, e quindi potrà andare fino a un metro sott'acqua, 3 feet. Per sostenere i LED RGB uso questo piccolo circuito stampato, che ne può tenere fino a 9. è stato fatto per dei LED di potenza, infatti su substrato di alluminio, ma io salderò direttamente i LED RGB sulle piazzole. Credo che ne userò 6 da questa parte, di modo che così il circuito stampato del ricevitore lo metto da questa parte. Inoltre l'antenna ricevente potrà essere incollata sul retro, che è comunque solido e può tenere l'antenna in posizione stabile. Il ricevitore lo realizzo su questo piccolo circuito stampato, che è fatto in base ad alluminio, e vado a saldare direttamente i LED sulle pad di questo circuito stampato. Questo circuito stampato era stato pensato per dei LED di potenza, infatti poi l'alluminio serviva come dissipatore. Io lo riutilizzo per questi LED, che di potenza ne assorbono veramente poca, ma è molto comodo perché abbiamo tutti gli anni di e-cut di già pronti. Ho dovuto fare qualche filatura per adattare il collegamento, e alla fine sono riuscito a inserire 12 LED, che potrò poi spostare e orientare per fare andare la luce e la luminosità nelle direzioni che voglio. Il ricevitore dell'IDT l'ho posizionato qui, e questa è la piccola resistenza di carico per tutti i LED. Nella parte sotto abbiamo l'antenna planare, che avendo una base adesiva si è incollata bene sulla parte di alluminio. Questa basetta di alluminio mi sarà anche molto comoda quando vorrò attaccare il magnete, in modo che così il contenitore, una volta immerso nell'acqua, possa stare a fondo. Il trasmettitore invece l'ho messo in questa scatolina di plastica, l'ho fissata con una vite, e semplicemente ho portato la 5V tramite un alimentatore. Per portare la 5V ho utilizzato questo alimentatore da smartphone, che se vi ricordate l'avevamo riparato in una delle puntate precedenti. Ok, faccio la prova a secco, quindi il trasmettitore è alimentato, infatti i LED rosso e verde sono accesi, appoggio semplicemente sull'antenna il mio ricevitore, ecco che i LED RGB cominciano ad accendersi, ed eseguono il loro ciclo. Abbiamo dei leggeri ritardi fra gli uni e gli altri, e questi mano a mano che passa il tempo aumenteranno. ecco che abbiamo la sequenza di tutti i 12 LED. Bene, ora inserisco il circuito all'interno, con l'antenna dalla parte di qua, e lo faccio scorrere. Sulla parte posteriore posizionerò il magnete, questo è un magnete, in pratica sono due placchette di alluminio, con all'interno un disco di neodimio, che ha veramente un potere attrattivo elevato, lo inserisco dentro, lo vado a bloccare, infatti si blocca molto bene, e infine chiudo il coperchio, e vado a chiudere la clip. A questo punto il mio trasmettitore è pronto, e posso fare la prova di immersione. Ecco, nella vasca, che andrò a riempire d'acqua, questo dovrà essere fissato, con l'avvolgimento rivolto verso l'acqua, il più possibile piano, di modo che l'antenna, una volta che viene posizionata in corrispondenza del ricevitore, possa trasferire la sua massima potenza. Infatti sappiamo che se si allontana un pochino, le cose continuano a funzionare, fino a circa un centimetro. Ecco qua, adesso sono più o meno a un centimetro, ecco che si spengono. Quindi per il trasferimento massimo, è importante garantire, diciamo, la minima distanza fra trasmettitore e ricevitore, e quindi anche il contenitore che tiene l'acqua, dovrà il più possibile avere una superficie piana. Dopo un po' di tempo, i colori si sfalsano. Mi sono procurato questo contenitore, l'ho riempito d'acqua, adesso mettiamo il ricevitore all'interno del contenitore, ovviamente questo galleggia, perché abbiamo aria dentro, ma con i magneti andiamo a fissarlo sulla parete. Per fissare il trasmettitore, allora abbiamo i magneti, che tengono fermo il contenitore stagno dall'altra parte, e poi il trasmettitore, qui attaccato con l'antenna a contatto, che è pronto per trasmettere. Ok, eccoci col test finale, quindi abbiamo messo il ricevitore dentro la bacinella, è sott'acqua, ed è alimentato dall'esterno. Questa è la magia del wireless power, quindi riusciamo ad avere i led, che ciclano la loro luce, alimentati fuori dall'acqua. Adesso ogni led varia con un tempo suo, si sono disallineati, quindi si creano anche combinazioni di colori, di diversa luce. Se il progetto vi è piaciuto, non vi dimenticate di votarmi. Grazie, ciao, alla prossima!